E' partito oggi per la Spezia, la passalacqua spedizione che andrà a giocare domani, l'ultima trasferta dell'anno solare, valida come prima giornata del girone di ritorno della massima serie di basket femminile. Insieme alla squadra, anche Laura Nichols, il cui utilizzo con l'ok dello staff medico, sarà deciso soltanto prima della partita. Per quanto riguarda la Spezia, si tratta di un avversario ultimo in classifica e che nel giro di pochissimo tempo le Eble incontreranno due volte, in quanto il 5 gennaio ci si giocherà la qualificazione in Coppa Italia. Si presenta quindi come fanalino di coda del campionato, ma recentemente ha cambiato alcune giocatrici, oltre che l'allenatore, quindi potrebbe essere una gara insidiosa, perché dopo tanti cambi non si sa mai quale squadra ci si trova di fronte. Hanno inoltre buone giocatrici come De Pretto e come Usa Rimko, ma ovviamente sono pochi i punti di riferimento, visto che il nuovo tecnico è arrivato da poco e quindi non si sa come farà a giocare la squadra. Il match domani sera con inizio alle 20.30, poi lo rompete le righe per la passalacqua e le rientro in sede prima di capodanno.